Abbiamo qualche secondo guadagnato, soddisfatto? Prima arrivo in salita, aspettavo delle risposte. Dopo la caduta non sono stato tanto bene i giorni seguenti, però adesso è già da un po' di giorni che mi sto riprendendo. Bene così, adesso recuperiamo per le prossime tappe. Adesso non ho visto le classifiche, penso a fare la mia gara. Vedremo, questa è una volta bellissima, molto dura. Mi piace tanto correre qua in Spagna, quindi cerchiamo di far bene. Ho dato il massimo e vediamo i prossimi giorni. Io ho provato, ho fatto la mia corsa, poi va bene così.